Non particolarmente bello, ma senz'altro valido. Tra Indovene e Guion è veramente un peccato che una delle due sia dovuta uscire. Sono due formazioni di alto livello internazionale, di buona quotazione. Guion addirittura è primo nel campionato spagnolo. La Indovene è secondo, comunque ha vinto la Indovene e si è qualificato. Avete visto che già ha colpito un palo, tutto nelle fasi iniziali del confronto. Che si decide in pratica al ventunesimo con un gol di Vili van de Kerkhoff a seguito di una splendida manovra in linea che stiamo per seguire. Nel contro di Indovene e Guion il risultato era stato di 0-0. Ecco lo splendido passaggio di ritorno e il gran gol di Vili van de Kerkhoff.